Lavorare e completare l'organico, questa è la morale di Pescara dopo il 2-2 rimediato con il Brest. Peccato per quel gol all'83esimo, perché credo che la Juventus in relazione a un buon secondo tempo avrebbe meritato di vincere questa amichevole, però ci sono delle indicazioni interessanti. Domani mattina parliamo delle parole di Tegomotta, che ha tirato una leggera lignata Federico Chiesa e agli altri calciatori rimasti a Torino, eccezione fatta per Miretti che è infortunato, Tegomotta ha detto siamo stati molto chiari a livello di società, abbiamo parlato con loro e devono trovarsi una soluzione il prima possibile, quindi Chiesa non fuori, totalmente fuori dal progetto Juventus, ma ne parliamo domani mattina, rendiamo la domenica un po' frizzante fin dal principio. Qui analizziamo quanto abbiamo visto, perché rispetto a Norimberga secondo me ci sono state delle indicazioni molto più interessanti e molto meno sperimentali. Lo avevo detto, la gara in Germania, sì, da noia sempre costantemente perdere, anche in amichevole, però avevamo osservato più le gesta di una sorta di next gen bis, anziché della Juventus prima squadra, lì. Qui invece siamo scesi con un assetto tattico con più big, che hanno avuto alle spalle più giorni di lavoro e hanno fatto vedere cose più interessanti. Ora, non mi fossilizzerei troppo sul sistema di gioco, qualcuno ha già parlato di 4-2-3-1, 4-1-4-1, insomma si è capito molto bene come la Juventus con cambiasa a sinistra costruisse a tre e come poi al tempo stesso si alzasse tra le linee Locatelli, che a un certo punto viaggiava sulla stessa lunghezza da un'onda perimetrale di fagioli, quindi delle indicazioni tattiche sono viste. Costruzione a tre, con Cabal a cercare spesso e volentieri il cambio di gioco in direzione UEA e con cambiaso che si stringeva in mezzo al campo, ma questo lo avevamo già visto spesso e volentieri anche con Max Allegri, perché cambiaso è bravo ad andare a spaccare le linee, a fungere quasi da mezzala. Parto col dire che Cabal mi è piaciuto, credo che questo ragazzo abbia un'ottima fisicità, va affinata la tecnica perché ci sono delle situazioni in cui ci sono dei passaggi molto elementari dove non si possono sbagliare e sono certo che con il lavoro di Tiago Motta non gli sbaglierà. È vero che lui, in occasione del primo gol del Brest, a dare un po' là all'azione che poi porta a un concorso di colpe successivo con gatti che si perdono l'uomo, insomma lettura errata, due gol davvero superficiali, quelli che ha preso oggi la Juventus, uno così e l'altro con Danilo che sostanzialmente, detto volgarmente, sbaglia a effettuare il fuorigioco. Però Cabal è uno che secondo me con Tiago rischia di giocare molto, perché nasce centrale, è mancino, può giocare centro-sinistra, può fare laterale, come l'ha fatto Verona, è uno che poi soprattutto nella ripresa ha fatto anche un paio di fiammate offensive cercando di alzare il baricentro da solo della squadra e riuscendoci anche. Giocatore che ha tempra, ha personalità e onestamente a me non è dispiaciuto affatto. Così come non mi è dispiaciuto l'atletismo di UEA. Ora, Tim, in determinate situazioni però bisogna calciare. Io spero che Tim questo lo impari. Lui ha calciato, è stata l'unica occasione assieme a quella di Vlaovic nel primo tempo, con una bella tiro alla distanza deviato dal portiere, poi successivamente colpo ai testi di Vlaovic che però lì deve far gol. Però UEA mi è sembrato che fisicamente sia stato uno dei più performanti a livello atletico. Ora, noi sugli esterni non abbiamo roba. Ad oggi abbiamo UEA a destra, a sinistra ovviamente può giocarci e ci giocherà sicuramente perché deve essere un'ottima stagione per lui il Diz. Però per il resto abbiamo venduto Sule alla Roma e abbiamo messo fuori dal progetto tecnico Federico Chiesa con tanto di dichiarazione anche di Tiago Motta, ovvero riassunto trovati una squadra il prima possibile. Lì dobbiamo intervenire. Dobbiamo intervenire in maniera massiccia. Non dico prendere due calciatori forti perché la parola forte può significare tutto o niente, opinabile. Dobbiamo prendere due esterni funzionari al progetto tattico di Tiago Motta. Due giocatori che facciano evidentemente quello che lui richiede. Ad oggi ce ne mancano due. Ce ne mancano due perché Bangula onestamente non mi sembra pronto per questo livello. Si possono applicare altre situazioni, si possono testare, ma noi se riusciamo a vendere Chiesa dobbiamo prendere due esterni. Thuram, da sgrezzare anche lui, vale un po' il discorso di Cabal. Oggi quando ha finito la benzina ha commesso due errori atroci. È un giocatore che deve imparare a giocare davanti alla difesa, però io credo che, anche per come l'avevo visto io allenarsi in Germania, la stessa amica che aveva fatto a Norimberga ha grandi mezzi. E lavorandoci può veramente emergere un bel giocatore. Douglas Lewis, mi sembra che dai primi due o tre tocchi che ha fatto, giocatore vero, sfiora il gol, firma l'assist pennellando un bellissimo angolo per Danilo, ha giocato in fase più avanzata, uno che evidentemente, passata la stagione, ha fatto dieci gol e dieci assist con la Stonevilla, e perché sa stare al mondo. Poi, se giudichiamo le gesta dei giocatori per il minutaggio in Coppa America con un Brasile ormai disastroso per un rigore sbagliato, questo è più un problema nostro che suo. Douglas Lewis, a detta di tutti gli esperti di Premier, è stato uno dei migliori centrompisti appunto dell'ultima Premier. E averlo portato a Torino è un colpaccio. Si è subito visto come questo calciatore possa darci molto. Ora, io non voglio volare con la fantasia, ma se immagino un percorso con Douglas Lewis, l'inserimento magari di Kopmeiners, la crescita di Turam, un Locatelli anche più propositivo, perché comunque Locatelli oggi gioca un po' più avanzato, e ha anche il merito di procurarsi il rigore poi firmato successivamente, segnato da Vlaovic. Ecco, Dujan sbaglia un gol di testa che non deve sbagliare, segna, e per me il fatto che comunque si sia accollato a responsabilità di ribattere nuovamente un rigore è importante. Ovvio la palla pesa meno in un amichevole, però se avesse sbagliato anche questo rigore probabilmente non sarebbe più stato lui nelle gerarchie quello, il primo rigorista in vista delle partite ufficiali. Per dieci minuti nel primo tempo e per lunghi segmenti della ripresa sono state delle cose a livello tecnico che mi sono piaciute. Aggressione molto alta, cercare di non portare troppo la palla, muoversi bene senza la stessa. Secondo me ci sono state delle situazioni in cui si è vista la mano di un percorso. Non fatemi dire subito la mano dell'allenatore, non voglio scadere nelle banalità, però sicuramente è un gruppo di lavoro che sta faticando molto. E bisogna cercare, abbiamo ancora due settimane, di immagazzinare determinati concetti da poi mettere in mostra con il Como. Soprattutto bisogna lavorare bene a livello difensivo. Ora bisogna inserire bene Bremer, che è rientrato da poco, lo stesso Danilo, lavorare su Cabal, lavorare su Cambiaso, perché anche Cambiaso in fase difensiva ci sono delle situazioni in cui un po' si perde e non deve farlo, perché lui deve essere una nostra certezza in questa stagione. Però, come dice il titolo di questo video, lavorare e completare. Ora bisogna lavorare in maniera massiccia sul mercato. Non che finora non l'abbiamo fatto, ma bisogna cambiare ulteriormente marcia. Due esterni, se parte Chiesa, Toribò, che è un centrale che ci serve nella maniera più assoluta, e siccome giochiamo tra linee così, con i centrompisti che si alzano, lo abbiamo visto oggi con Fagioli, Locatelli, Douglas Lewis, Copp è esattamente quel giocatore che ci serve. Non è un caso che tra l'altro un po' l'intera strategia di mercato avverta proprio su l'acquisizione di Copp, che è il top, top target. Sono curioso di sapere il vostro punto di vista su questo 2-2. Fatemi mandare un grosso abbraccio a tutti i tifosi juventini che erano presenti a Pescara. Bellissimo questa risposta dell'Adriatico. I tifosi juventini sono ovunque e la Juventus è di tutti. Io quando continuo a dire è giusto che poi la Juventus nel precampionato possa andare in più città, anche fuori Italia, perché noi abbiamo sempre la presunzione per chi vive magari a Torino, vicino, che sia scontato vederla la Juventus. No, non è scontato perché la Juventus richiede sacrificio e molte persone magari neanche se lo possono permettere. Per cui se anche in amichevole, se anche al 3 agosto, in una gara dove non conta niente, ho la possibilità di vedere la Juventus perché mi viene sotto casa, è per me una grande emozione. Ecco, ho visto la regia inquadrata tantissimi bambini e mi fa molto piacere che ci siano le nuove leve pronte poi a supportare con la loro crescita anche il valore emotivo di questa società che si tramanda di generazione in generazione. Per cui il più grosso elogio oggi lo faccio proprio al pubblico dell'Adriatico. A domani mattina per commentare assieme le parole di Tiago Motta che sono state delle belle forti, belle forti. Infine, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella notifica, lasciate un bel like e seguite Bianconero.